Posa della prima pietra questa mattina a Cucurano di Fano per la realizzazione del secondo lotto del polo d'infanzia 0-6 anni. A fianco dell'attuale plesso scolastico di Cucurano Carrara inaugurato nel settembre 2021, a partire dalle prossime settimane inizieranno i lavori nell'area non coltivata per la costruzione di due nuove strutture per un costo totale di 5 milioni e 430 mila euro. I lavori sono già stati affidati, un finanziamento che è in copartecipazione con il comune di Fano che ci garantirà appunto di realizzare una struttura molto importante con una capacità di sei aule di cui due andranno al nido, quindi verranno destinate ai bambini dallo 0 ai 3 anni e le altre quattro invece saranno di scuola materna. Sarà una struttura con una finalità ben precisa per cui i tecnici proprio del comune di Fano che ringrazio per il prezioso lavoro che hanno fatto, una struttura che metterà al centro il bambino, il ruolo educativo ma anche di scambio di relazioni perché creerà proprio un'area verde che sarà di interscambio. Oltre questo all'interno di ogni aula proprio ogni bambino avrà la possibilità di vivere un bel rapporto con l'ambiente perché avrà uno spazio destinato appunto al verde in prossimità del suo perimetro. È l'obiettivo di questo intervento anche quello di dargli una certa sostenibilità da questo punto di vista proprio perché va nella direzione con cui stiamo costruendo anche la maggior parte degli edifici. Una struttura moderna, innovativa e sicura che accoglierà tutti i bambini e le bambine del territorio. Una nuova struttura Cucurano in grado di accogliere non solo le attuali quattro sezioni delle scuole dell'infanzia statali di Cucurano, Carrara e Falcinetto ma anche due nuove sezioni di esilo nido. Un servizio che in questi anni Cucurano non ha mai avuto a disposizione. Una scelta quindi importante che si integra con quella non meno significativa di avere una nuova cucina che produrrà fino a 400 pasti e una sala a rifezione da quasi 200 posti. Un intervento quindi molto importante che si va ad aggiungere ai cantieri che stiamo per aprire anche nei quartieri di Vallato e Bellocchi per la realizzazione di nuovi asili nido. I lavori avranno una durata di circa due anni, infatti nell'aprile 2025 la struttura dovrà essere consegnata alla città. Il primo concetto, impegni vanno mantenuti, con questa realizzazione manteniamo ad un impegno che ci siamo presi sin dall'inizio del mio mandato, facendo allora una scelta di cambiare un obiettivo che si erano dati con l'amministrazione precedente, se non ci fosse stato quel passaggio oggi non saremmo qua a fare la posa della prima pietra. La seconda aspetto, che è una scelta anche questa, di dotare tutte le nostre strutture scolastiche che sono la base della crescita e della formazione delle nostre bambine, dei nostri bambini, delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi è quella di avere strutture adeguate, moderne, con laboratori, con tutte quelle strumentazioni che devono esserci, perché altrimenti non tutte le bambine e i bambini hanno le stesse opportunità, quando le strutture non sono ugualmente adeguate in tutto il nostro territorio. Una struttura adeguata, moderna, che crea pari opportunità e pari disponibilità per le nostre bambine e bambini e quindi è una giornata importante e non nascondo la soddisfazione e l'orgoglio per questa ulteriore realizzazione in questa città che continua a crescere giorno dopo giorno.